Eccoci con Alessio Di Ofebbo al termine di Lokanda Dream Team. Alessio allora come giudichi la vostra prestazione considerando il primo tempo definitivamente sottotono all'inizio del secondo tre gol in pochissimi minuti avendo la rischia. Siamo partiti secondo me, abbiamo creato tanto, non siamo riusciti a buttarla dentro purtroppo. Poi ho cambiato modo il secondo tempo cercando di stabilizzare un po' meglio il centrocampo e vedevo che non andavamo e quindi siamo messi a due. Penso che poi abbiamo arciato un po' la qualità e siamo riusciti a uscirne fuori. Tre vittorie su tre un bottino decisamente interessante. Cosa pensi, come giudichi il percorso fino ad adesso della tua squadra? Guarda, noi vogliamo cercare di vincere tutte, cerchiamo in tutti i modi di vincerle. Poi ovviamente qualche partita ci può stare in caso avessimo perda o comunque uno scivolone. Però noi puntiamo a vincere tutte le partite ogni giorno così. Grazie! Grazie!